Amici sportivi di odio, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte della seconda puntata di S4, S4 è il nuovo programma televisivo delle 4S, Sport Sun, Sea e Snow. Le 4S appunto degli sport all'aria aperta, del sole, del mare e della montagna. Un appuntamento questo di S4 sulle frequenze di odio in tv in onda da fine gennaio fino a fine maggio. E' con me a presentare questo programma, una compagna di viaggio, Elisa Santamaria, che ringrazio, e tre importanti ospiti del modo dello sport e del turismo. Per chi si è perso la prima parte, prima della pubblicità, Elisa ha fatto una domanda a Bruno, Bruno Felicetti lo ricordiamo, direttore dell'Aptival di Fiemme, che domanda era? E' Bruno veloce la risposta. Guarda, chiudevamo con questa domanda. L'anno prossimo, quarantesimo anniversario della Marcia Longa, cosa dobbiamo aspettarci? Ma non possiamo svelare tutto quello che bolla in pentola, ma sicuramente ci sarà una rievocazione con abiti, sci di una volta, quindi la storia di questi quarant'anni della Marcia Longa verrà rivissuta attraverso dei partecipanti che la fronteranno con sci di una volta, con tutta l'attrezzatura che ormai qualcuno ancora in soffitto ha tenuto gelosamente, quindi una sorta di revival dal vivo di quarant'anni. E come sempre nella tradizione della Val di Fiemme la popolazione sarà coinvolta, perché ricordiamo nell'ultima edizione oltre mille volontari a collaborare per questa prestigiosissima gara, anche in vista del quarantesimo. Certo, sicuramente, anzi, sono già previsti in ogni paese delle Val di Fiemme Fassa delle iniziative, delle rievocazioni, dei momenti per suggellare questi quarant'anni che sono veramente importanti. L'anno prossimo, il 2013, oltre al quarantesimo da Marcia Longa, c'è anche i mondiali 2013, dal 20 di febbraio al 3 di marzo, come vi state preparando per questo evento che crediamo nel panorama sportivo l'anno prossimo sarà uno degli eventi più importanti, perché quest'anno c'è Londra, i giochi olimpici, poi c'è Sochi, 2014, ma nel 2013 in Trentino due grandi eventi. Il campionato mondiale vostro e soprattutto alle spalle di Elisa c'è gli Ottimis, a Riva del Garda, al circo della Falea di Villa di Red Garda, ad agosto ospiterà i campionati mondiali della classe Optimis, che è questa imbarcazione che vedete. Quindi siete bravi voi, Trentini, a avere questi eventi e ad organizzarli. Come stanno andando i lavori per questi campionati mondiali? La preparazione, diciamo, la parte strutturale è finita, stiamo mettendo a posto tutte le squadre dei volontari, perché le esperienze fatte durante i Premi Mondiali ci hanno permesso di capire dove ci sono degli aspetti a migliorare. Ovviamente stiamo lavorando molto anche sul coinvolgimento di tutto il contorno, che deve essere forte, quindi sia la parte sportiva ma anche la parte, diciamo, enogastronomica, il divertimento, la possibilità di permettere ai tanti spettatori che verranno in Val di Fiemme, parliamo di oltre 300-400 mila persone, di vivere non solo l'evento sportivo ma anche un po' l'emozione della nostra cultura, della nostra enogastronomia, dell'italianità, perché questo è un campionato del mondo che si svolge in Val di Fiemme e in Trentino, ma rappresenta un po' tutta la nazione. Un evento importante, per maggiori informazioni avete un sito che è www.visitfiemme2013.com Fiemme2013.com è quello dei campionati mondiali, invece il vostro... Visitfiemme.it Quindi per maggiori informazioni, ma parliamo con un personaggio che nel mondo dello sci di fondo sicuramente ha bisogno di presentazione, uno che ha vissuto anche la prima edizione dei campionati mondiali nel 1991, scultati in Val di Fiemme, Sandro Vanoi, velocemente, la bellezza della Val di Fiemme l'ha già presentata Bruno, da te vogliamo sapere qualche aneddoto, qualche memoria storica di questa valle importante per lo sci di fondo e della prima edizione del 1991, gli anni d'oro della Belmondo, della grande rivalità tra la Stefania Belmondo e la Manuela di Centa, Maurizio De Zolt, insomma ce n'hai da raccontare? Sì, diciamo che nel 91 sono cominciati i grossi risultati, i grandi risultati e soprattutto hanno avuto la continuità, perché abbiamo iniziato a fare risultati importanti, quindi a sedere sul podio nel 1987 a Sefail con i primi mondiali, dopodiché pian piano le squadre sia maschili che femminili sono cresciute moltissimo e dal 91 in avanti c'è stato questo diciamo dualismo tra due regine dello sci, che erano Belmondo e Vicenta, con caratteri completamente diversi, che si sono date battaglia su tutte le piste del mondo. Quando correvano loro c'era un numero esagerato di giornalisti, ma non per vedere e analizzare l'aspetto tecnico, solo per esaltare questo dualismo che effettivamente se andiamo a vedere proprio all'interno del loro animo non c'era questo grandissimo dualismo. Chiaramente è uno sport individuale, vinco io e perdi tu, ma più che altro erano i team della Dicenta e della Belmondo che si contrastavano per i risultati che facevano. Questo in campo femminile? In campo maschile? In campo maschile non c'era questa grande divisione perché c'era ancora Albarello, Vanzetta, Valdifiemme, De Zolt che erano tre atleti molto difficili da gestire e che grazie ai risultati delle donne sono cresciuti anche loro, perché soffrivano i primi anni, i primi tempi soffrivano un po' nel vedere che queste donne vincevano più di loro e quindi è stato uno stimolo per vincere ancora di più, soprattutto direi che Mauriglio De Zolt è quello che ne ha beneficiato maggiormente perché sentiva questa rivalità con le ragazze e con le donne che ha portato anche Mauriglio a fare dei risultati strepitosi. Ecco, risultati strepitosi, la tua perla come CT, come commissario tecnico però è Lillehammer 1994, quando la staffetta in casa dei norvegesi ha vinto l'oro in volata e tu dissi una frase che è rimasta nella storia dello sport. La so io o non la sei tu? Del Maracanà e del Brasile. Beh, quello che è passato, cioè noi abbiamo sempre pensato che nello sport soprattutto i risultati che fai te li devi dimenticare, altrimenti rimani ancorato a degli aspetti che sono negativi perché non bisogna mai ripetere quello che hai fatto l'anno prima, bisogna sempre cambiare sia il tipo di allenamento che di mentalità perché se cominci a pensare di essere arrivato è la volta che sei finito. Infatti pensiamo al futuro, basta ricordare, prepara, vediamo cosa fava noi adesso, prepara lo scenautico perché basta, di storia non ne parliamo più. No, la storia è importante perché rimane, rimane scritta negli annali, quindi direi che è stata... Il futuro si legge dalla storia. Certo, il futuro si legge dalla storia. Sto scherzando Sandro. Però ti dico quel risultato lì è stato sicuramente per l'Italia il risultato più importante delle Olimpiadi di Alberville. Ecco vi posso ricordare che quando siamo stati... Lillehammer o Alberville? Alberville. Lillehammer è stato più importante di Alberville. 94, Alberville 92. Però 92 già c'erano i presupposti con un Fauner Silvio che stava facendo vedere quello che valeva e a Lillehammer tutti e quattro i ragazzi hanno dato il massimo e chiaramente hanno vinto con la medaglia storica, medaglia storica poi ripetuta a Torino 2006 con il Piller dicente. Però c'è stato di mezzo anche Nagano dove abbiamo perso in volata tra Fauner e Asgard, quindi anche lì per... Sandro dovrai tornare a raccontare, qui ragazzi ci stiamo gasando troppo. Bruno, però adesso sta finendo il primo blocco. Domani, parliamo di attualità, domani, ti ringraziamo nel secondo punto perché questo weekend è il Val di Fiamma importante perché ci sono le gare di Combenato e domani si possono vedere nei Rai, giusto? Sì, sì. Come stanno andando queste gare? Ah bene, insomma diciamo che... Il pubblico risponde perché è uno sport giovane. Per noi sono test importanti soprattutto per provare l'organizzazione e per migliorarci in vista dei mondiali. Domani sono in diretta su Rai Sport, immagino? Certo. Domani su Rai Sport, se no guardate Odeon, l'altra nostra trasmissione dedicata agli sport invernali, Schionline TV, vi ricordo lunedì alle 22.30 e il mercoledì alle 20, tutti, tutta dedicata al mondo degli sport invernali e quindi Bruno... Ma noi siamo pronti, siamo pronti già per il febbraio del 2013, ripeto, la cerimonia di apertura, questa grande cerimonia in piazza Trento, nella magnifica piazza Duomo, quindi ringrazio la collega perché ci stanno dando una grande mano e un supporto non solo così psicologico ma anche operativo e tecnico. Mi piace ricordare una cosa, poi l'anno scorso in Italia erano i 150 anni di storia dell'Unità d'Italia, però una cosa che mi ha colpito è che voi in Val di Fiemme l'anno scorso avete festeggiato i mille anni, 900 anni dalla magnifica comunità di Fiemme. E che cos'è questa storia che ho sentito? Spiegaci, questa curiosità. Un ente riconosciuto nel 1111 dal principe vescovo Gebardo, il quale attraverso un atto diede l'autonomia alla Valle di Fiemme, quindi dal 1111, da 900 anni, la nostra Valle è autonoma e amministra da sempre i boschi, i fiumi e tutto quello che erano i proventi del territorio. Oggi magari il legno non è così importante come lo era 900 anni fa, tuttavia c'è un'industria legata alla filiera del legno che è molto importante. Artigianato? Artigianato, tutta la... Poi c'avete un legno speciale che... Il famoso abete rosso di risonanza che cresce quasi esclusivamente in Val di Fiemme a 1800 metri, con il quale Stradivari faceva dei fantastici violini, oggi un violino Stradivari costa qualche milione di euro, quindi siamo orgogliosi di dire che l'anima di questi strumenti è originale della Val di Fiemme. Senti, adesso parliamo di agricoltura, noi che programma siamo Elisa? Ma sai, noi spaziamo un po' dappertutto, Floriano, ci occupiamo un po' di tutto, ma quando abbiamo questi ospiti così piacevoli è un invito a trattare tutti gli argomenti. Ora però purtroppo c'è... La pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. Nella terza e ultima parte di S4, tra poco. My second skin to London 2012. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Tanti anni fa ero in macchina, proprio come te adesso, e decisi di fermarmi alla Kuwait. Due chiacchiere col gestore, il pieno, un caffè, e notai che quelle persone avevano qualcosa in comune con me. Capita? Insomma, mi trovai così bene che continuai a fare il mio lavoro da qui. E oggi trasmetto da una stazione Kuwait. Cercami. Scusi, ma il DJ trasmette da qui? No, è tutto registrato. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. Hans Free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 centimetri di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta a un passo oltre l'HD. Find yourself in Hans Free. Fiera Bolzano vi invita a ProVinter 2012, la fiera internazionale del noleggio e dei servizi per gli sport invernali, oltre 350 aziende, molti eventi e venerdì, giornata dedicata agli appassionati dello sci alpinismo. ProVinter e Alpitec 2012, da mercoledì 18 a venerdì 20 aprile. Grazie a tutti, grazie a tutti.